un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini iniziamo dalla 1 dove adesso ci sono 3 km di coda per un incidente tra il bivio colo variante di Valico e Calenzano Sesto Fiorentino in direzione Roma in A11 code per traffico intenso in uscita a Prato Ovest provenendo da entrambe le direzioni code per il traffico intenso anche tra Prato Ovest e Prato Est in direzione Firenze a Firenze modifiche in zona stazione per fluidificare il traffico ci sono 2 corsie in più per da Via Panzani senza intercettare i binari della tramvia una in uscita verso Via della Scala, una in entrata dal Bar de Anna Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze anche per oggi è tutto, a domani, buon viaggio! Grazie a tutti!